Se l'idea dei democratici di chiarire tutto è presto, le opposizioni puntano a mettere in risalto le contraddizioni politiche dalle vicende. Sul blog Grillo ripresca questa dichiarazione della Boschi ai tempi della sfiducia al ministro Cancellieri per il caso Ligresti. I parlamentari ripetono. Il governo non ha salvato i risparmiatori italiani, ha salvato i banchieri italiani. Uno di questi banchieri era il padre della ministra Boschi. Abbiamo depositato un atto di sfiducia nei suoi confronti e chiediamo a tutte le opposizioni di sottoscriverlo e chiediamo all'Aula, alla Camera dei Deputati, di votare immediatamente una buona legge sul conflitto di interessi. Dal muro contro muro è chiaro che non si esce, almeno fino a quando la mozione sarà calendarizzata in Aula.